Bellissimo calcio d'incontro che ha fatto bilanciare Ecco di prova, attenzione ragazzi che c'è l'altro Volevamo stupite con effetti speciali e ci siamo riusciti Bellissimo calcio a volvo Ecco poi una proiezione su mio fegato E' un bel pugno girato Ecco poi una proiezione ci riesce, bravissimo, complimenti Grazie 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 Ci siamo Grazie E' piccolino, lo so Anche due mesi da 30 sono abituati a lavorare sul trattamento regolamentare Quindi è il doppio di questo E nella loro testa ci sono quelle misure, non questa Anche due mesi da 30 sono abituati a lavorare sul trattamento regolamentare Un bel abbraccio Grupo pubblico Vi chiamiamo tutti gli atleti Per il saluto Buon saluto al scuotico Standa Ma questa volta anche per Forte Monferrato Benissimo Ok, allora Grazie